Il sindaco di San Cataldo, Giampiero Modaffari, ha incontrato a Palazzo delle Spighe i referenti di società impegnate in attività relative anche alla gestione di sottoservizi. Scopo della riunione informare i referenti delle società sulle novità normative introdotte con il nuovo regolamento per l'esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico, approvato nelle scorse settimane dal Consiglio Comunale, si legge in una nota pubblicata sul sito web del Comune. Il regolamento è già operativo a partire dai prossimi lavori di scavo da eseguire in città, fa sapere il sindaco che aggiunge deve essere stabilito un cronoprogramma certo, la viabilità deve essere consentita entro cinque giorni dallo scavo, quantomeno con un ripristino temporaneo a Calcestruzzo. A San Cataldo non esisteranno più situazioni in cui per uno scavo la viabilità viene ripristinata dopo un mese. A completamento dei lavori inoltre deve essere prodotta un'apposita certificazione di collaudo, in caso di problemi dobbiamo sapere su chi rivalerci nello specifico la direzione dei lavori.